ciao a tutti nuovo appuntamento con il back to fit oggi allenamento brucia grassi materiale a disposizione un tappetino una sedia e due metri per due di spazio lavoro si parte subito con una corsa sul posto svolta in varie forme portando le ginocchia in avanti tracciando dei piccoli percorsi per non trovarsi fermi sul posto delle calciate alternate con le braccia con dei movimenti laterali attivare bene la respirazione profonda delle belle ispirazioni ricordatevi sempre una bottiglia d'acqua è un asciugamano a portata di mano la durata dell'allenamento è di circa 30 minuti e non ci si ferma mai le corse laterali via con delle diagonali e le calciate come meglio preferite l'importante è non stare fermi siamo a due minuti ancora un minuto un po' di skating anche all'indietro saltello di piccoli ostacoli siamo quasi arrivati passo incrociato ancora pochi secondi arrivati perfetto partiamo subito con una serie di 5 esercizi il primo dei quali è un climbing quindi sui 4 appoggi sui gomiti allineamento spalle, bacino e caviglie distendo spingo con un braccio seguo con l'altro e scendo di nuovo sui gomiti per 10 ripetizioni una volta spingo con il primo braccio sinistro e poi seguo con il destro poi quando torno riparto spingendo questa volta con il braccio destro e seguo con il sinistro e lo alterno 1 e 1 fino a svolgere 10 ripetizioni e poi via 10 skip a ginocchi alto 3 4 e sono 10 il secondo esercizio uno squat e un salto verso l'alto a spingere con le braccia in alto scendo giù in mezzo squat e via spingo verso l'alto anche la telecamera si muove 10 ripetizioni e poi via un jumping jack sempre 10 e 10 stop terzo esercizio a gambe divaricate scendo a spider un mezzo push up e ritorno con un saltello mani ai fianchi scendo ritorno mani ai fianchi e un mezzo saltello 10 ripetizioni e giù sono 4 mani ai fianchi e uno salto verso l'alto 5 6 7 8 9 andiamo con l'ultimo scendo ritorno e via salgo e via con delle calciate sempre 10 ripetizioni 4 5 6 via e stop adesso andiamo a fare un maintain perfetto portiamo il ginocchio al gomito a destra e poi a sinistra ginocchio in avvicinamento con una rotazione del bacino con una rotazione del bacino a seguire il movimento mezza rotazione sono 10 ripetizioni e via 10 saltelli in avanti e via 10 saltelli in avanti poi esercizio simile a quello di prima ed è il quinto di questa prima serie di lavoro un crocodile avanzo e con il ginocchio vado sul braccio che si trova dietro rispetto all'altro sempre con quella mezza rotazione del bacino quindi scendo in push up e avvicino il ginocchio sul braccio che rimane dietro rispetto all'altro quindi quello che non avanza per intenderci e sono 10 ripetizioni e poi via un saltello o un jumping jack a 10 ripetizioni 4 minuti e mezzo di lavoro circa ed è la prima serie di questo circuito a 5 esercizi e lo ripetiamo una seconda volta quindi di nuovo giù a 4 appoggi e via con un climbing dove vado a spingere una volta con il braccio destro e seguo con il sinistro e una volta con il braccio sinistro seguendo con il destro 10 ripetizioni alternato questa seconda parte deve riuscire meglio avendo già ripetuto questi 5 esercizi per una serie da 10 ripetizioni e sono 10 e via uno skip a ginocchi alto sempre 10 posiziona gambe divaricate via un salto verso l'alto con le braccia a distendersi in alto sempre 10 giù a caricare e via e via 10 jumping jack di nuovo con le gambe divaricate giù uno spider un mezzo push up un ritorno e un mezzo saltello con le mani ai fianchi e ritorno 10 ripetizioni sempre giù a caricare il e sono dieci e via dieci calciate. ora un mountain climber sempre quattro appoggi e col ginocchio in avvicinamento al braccio allo stesso lato del braccio quindi il ginocchio destro sul braccio destro e ginocchio sinistro sul braccio sinistro e via dieci saltello divaricato in avanti e giù di nuovo un crocodile quindi scendo ginocchio in avvicinamento al braccio che rimane dietro ma scendo in push up ora quindi le braccia non sono più tese ma scendo con un push up piegando le braccia ai gomiti, dieci e via un jumping jack e i primi dodici minuti circa di lavoro se ne sono andati ora due minuti di pausa in modo tale da recuperare le energie spese e non sono state poche e poi si riparte con una sequenza di altri cinque esercizi il primo dei quali uno step up sulla sedia saigo una volta con la gamba destra e un'altra volta tornando con la gamba sinistra in modo tale da recuperare le energie spese e non sono state poche in modo tale da recuperare le energie spese e non sono state poche si riparte con una sequenza di altri cinque esercizi il primo dei quali uno step up sulla sedia saigo una volta con la gamba destra e un'altra volta tornando con la gamba sinistra porto sul ginocchio via ovviamente una sedia sicura non una di quelle pieghevoli neanche quelle da salotto sono cinque andando e cinque tornando e fanno dieci e poi via dieci skip a ginocchia alte secondo esercizio tappetino appoggio i gomiti e quindi su quattro appoggi sollevo la gamba due secondi in tenuta e cambio sull'altra quindi due secondi a tenere alto e cambia sull'altra gamba per un totale di dieci ripetizioni e poi dieci saltelli ancora in jumping jack sposto il tappetino che mi viene in tralcio e vado al terzo esercizio gambe divaricate scendo a caricare e via esplosione con le braccia portate fuori dieci salti via carico bene lo squat e via esplodere verso l'alto con le braccia che salgono fuori e sono dieci e dieci calciate poi in appoggio su un ginocchio l'altro piede in avanti col ginocchio 90 gradi spingo salgo col ginocchio alto e ritorno sempre in appoggio con la fondo dietro come vedete alterno il braccio in avanti rispetto alla gamba al ginocchio opposto che sale quindi salendo col ginocchio destro avanzo con il braccio sinistro 10 ripetizioni e poi cambio stesso movimento salgo con il ginocchio sinistro e avanzo con il braccio destro sempre a 10 controlliamo bene gli affondi a 90 gradi ginocchia sia quello destro che l'altro sinistro dietro e poi dieci saltelli divaricati in avanti quinto esercizio ed è l'ultimo di questa prima serie mi posiziono a braccia tese eseguo un compasso a tre movimenti con un push up 10 push up quindi sono apro seguo con la gamba pareggiandola scendo e scendo 10 push up come vedete è un compasso io non avendo altro spazio a disposizione non riesco a fare il giro completo se ce l'avete meglio ancora 10 svolte e poi 10 jumping jack terminato il primo giro di questo circuito a 5 esercizi riparto con il primo esercizio sempre con la sedia e via ginocchio a salire una volta spingo con la gamba destra e una volta spingo con la gamba sinistra e sono 10 ripetizioni e poi via 10 skip a ginocchia alte si riposiziona la sedia fuori dal posto di lavoro e giù sono i 4 appoggi un plank spingo con la gamba tesa alta 2 secondi a tenere e cambio e via un jumping a 10 ripetizioni terzo esercizio scendo a caricare e via uno squat con un squat jump a braccia fuori sempre 10 bene il peso dietro ricordiamocelo e poi 10 calciate giù di nuovo un ginocchio in appoggio e l'altra gamba piegata con il ginocchio a 90 gradi via spingere il ginocchio alto sempre il ginocchio salire con il braccio opposto in avanzamento angoli a 90 gradi sempre ricordiamolo e cambio sull'altra e via 10 saltelli divaricati in avanti ultimo esercizio ultimo esercizio appoggio con le braccia tese un compasso con il push up a 10 ripetizioni apro fuori unisco e giù e via di nuovo e via 10 jumping jack benissimo benissimo terminato il lavoro due esercizi di decompressione e di recupero schiena a terra braccia fuori raccolgo le ginocchia e poi apro di nuovo le braccia e porto i piedi in appoggio a terra per 5 ripetizioni comprimo retroversione del bacino e appoggio i talloni a terra senza distendere le gambe ora vado su 4 appoggi ed eseguo l'esercizio del gatto quindi la raccolta cifotizzando le scapole e poi l'inversione con una curva lordosi che va accentuandosi inspiro ed espiro via inspirando e via butto fuori e stop allenamento terminato spero sia stato di vostro gradimento ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti